Intanto siamo in Quaresima, già avete pubblicato il programma della Quaresima e soprattutto il venerdì di Quaresima che è il giorno di astinenza dalla carne, il giorno della via Crucis. Questi 450 anni, la parrocchia di Maria Santissima annunziata è stata fondata 450 anni fa, l'8 marzo, su istanza dell'abbate di Altofonte, l'abbate commendatario di Altofonte, dal quale dipendeva il territorio di Partenico. Però è stato il Vescovo di Mazzara a fare il decreto per l'istituzione della parrocchia. L'abbate è rimasto il diritto di patronato, significa il diritto di provvedere alla parrocchia, ma anche il diritto di nominare l'arciprete. Finora, compreso me, gli arciprete siamo stati 25 e inizieremo con la presentazione del libro di Gaetano Russo, appunto sulla storia della chiesa di Partenico e sui 25 arciprete, più un altro libro sulle tradizioni popolari nella provincia di Palermo. Tra l'altro la festa che una volta si faceva per il Santissimo Crocifisso con il carro trionfale e la festa della Madonna del Ponte. E allora in occasione dei 450 anni, che ne sieranno giovedì 2 marzo, abbiamo voluto vivere i sacramenti, perché la comunità parrocchiale è il luogo dove si celebrano i sacramenti. e le sette parrocchie, ognuno farà un pellegrinaggio verso la Chiesa Madre per vivere il sacramento della confermazione, il sacramento del matrimonio, il sacramento della penitenza, il sacramento dell'ordine, il sacramento dell'unzione degli ammalati. Domenica 5, celebrazione solenne alle 18, messa solenne cantata dal coro Pontes Marie, e poi l'8 marzo, il giorno del 400esimo anniversario, avremo la gioia di avere il nuovo vescovo di Mazzara, Monsignor Giordanella, il quale farà una solenne concelebrazione al quale regalerò questo ricordo della diocese di Mazzara, che è un foglio della messa in onore di San Leonardo, dove si dice San Leonardo Abbate, patrono della città di Partenico, della diocese di Mazzara. In questo foglio c'è appunto il riferimento alla diocese di Mazzara, 1843, come stampa, ed è un documento prezioso, molto bello, che ci ricorda questo rapporto con la diocese di Mazzara. Poi dal 10 al 12 avremo una mostra di Fatima Licavoli nel Salone del Rosariello, La luce racconta, ma durante queste celebrazioni avremo anche, oltre alla presentazione dei due libri, pensiamo di fare una esposizione al Rosariello della suppellettile religiosa dell'abbate Barlotta, che è stato l'ultimo abbate commendatario di Partenico, che ha lasciato alla chiesa madre di Partenico parte della suppellettile religiosa. Don Giampiero ha curato il programma, Don Giampiero ha anche il programma di San Giuseppe, perché lui predicherà la novena di San Giuseppe assieme agli eventi, e lui può parlare di questi eventi. Allora, come avete sentito, come da tradizione anche in questo tempo di Quaresima, soprattutto a Partenico, ma anche nei paesi limitrofi, siamo chiamati a vivere la solennità del Patriarca San Giuseppe. La Rettoria di San Giuseppe fa parte della chiesa madre, e quindi abbiamo pensato, insieme con la confraternita, con l'antica confraternita di San Giuseppe, di stilare un programma per festeggiare, dopo la pandemia, in modo solenne, questa figura così importante e così bella, la figura di San Giuseppe. La novena inizierà da sabato 11 marzo fino a domenica 19. La novena sarà predicata da me, ogni sera alle ore 17.30 ci sarà il Santo Rosario, e alle ore 18 la Santa Messa con la meditazione. Tre sono gli appuntamenti più importanti che accompagneranno questa festa. In modo particolare, domenica 12 marzo, subito dopo la messa delle 18 alle ore 19, il coro Pontis Maria terrà un concerto in onore di San Giuseppe, intitolato Custos Redentoris, Custode del Redentore, il coro diretto dal maestro Tony Caronna. Poi, sabato 18 marzo, alle ore 19, sempre dopo la messa, ci sarà la Sagra della Sfincia a cura della Scuola di Arte e Mestieri Euroform. Poi, domenica 19, nella messa ci saranno i primi Vespri Solenni della Solennità di San Giuseppe e la vestizione dei nuovi confrati. Siccome quest'anno, il 19 marzo, cade di domenica, a livello liturgico, non è possibile celebrare la Solennità di San Giuseppe, infatti è stata trasportata a lunedì 20 marzo. Lunedì le messe saranno alle ore 8, 9, 10, 11 e 12. Nel pomeriggio, alle ore 17 e 30, ci sarà la solenne processione con il simulacro di San Giuseppe. Subito dopo, infatti lo voglio fare pubblicamente, lo vogliamo fare pubblicamente, invitare tutti i papà con tutti i loro figli a venire alla processione, perché subito dopo la processione ci sarà l'atto di affidamento di tutti i papà con i loro figli al Patriarca San Giuseppe. È bello riscoprire questa figura e questo legame così forte. E subito dopo, la scuola, l'Istituto Danilo Dolci ci allieterà anche di un'altra importante e bella sagra che è la sagra della Cassatella. Quindi vi invitiamo davvero alla partecipazione a questi grandi eventi che fanno parte della nostra storia, fanno parte della nostra memoria, per sentirci sempre di più legati, ecco, alla storia della nostra città, alla storia della nostra tradizione, alla storia della nostra pietà popolare. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.